segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te luigi di maio sono stati non solo i suoi compagni di viaggio ma le persone con cui ha costruito la sua carriera le stanno dando dell'opportunista gigino a cartelletta inconsapevole troverà comunque un modo per riciclarsi li vede un po nervosi perché hanno capito come sempre di aver sfasciato tutto il tema vero è che quella era una forza politica che costruiva i governi perché il nostro sogno insieme era andare al governo fare le riforme che servivano all'italia cambiare l'italia poi sono diventate un'altra cosa che io chiamo il partito di conte che ha buttato giù mario draghi non un presidente del consiglio qualsiasi e credo che la maggioranza degli italiani al di là di come la pensi su draghi o come la si pensi su qualcun altro di questo governo la maggioranza degli italiani volevano questo governo andasse avanti perché siamo in una crisi senza precedenti dal dopoguerra ad oggi quelle persone sono un po come dire nervose per questo scaricano ovviamente la responsabilità su di me ma questa è una vecchia storia del movimento però voglio dire una cosa io a grillo oro sempre bene ha detto cose peggiori di conte lei lo chiama il partito di conte ma non va a finire che sarà il partito di di battista questo lo decideranno loro al loro interno sono affari loro però io quando dico partito di conte lo dico perché ormai un partito padronale che decide tutto da solo e che porta questo questa forza politica a litigare con tutti è incredibile ma conte nel conte 1 ha litigato con salvini nel conte 2 con renzi nel governo draghi con draghi intanto ha litigato con me beh forse il problema è proprio lui grazie grazie a voi buon lavoro noi dobbiamo andare in pubblicità